Domani a Cosio d'Arroscia sarà nuovamente protagonista la festa delle erbe che proporrà al pubblico piatti tipici del territorio a cavallo fra Liguria e Piemonte e i sapori veri e genuini delle erbe di montagna. La manifestazione come ogni anno coinvolgerà tutte le vie e carruggi e le piazze del caratteristico borgo della Valle Arroscia, che conserva ancora intatte numerose testimonianze della sua storia plurisecolare. Fra i protagonisti, oltre alle proloco di Cosio dei territori circostanti, anche numerose aziende della Valle Arroscia che da sempre puntano sulla qualità e tipicità delle loro produzioni. La festa delle erbe tornerà come ogni anno a far vivere anche antiche botteghe, cantine e forni che aggiungono fascino all'evento che richiama centinaia di persone.